È il 30 gennaio il termine entro cui iscriversi all'anno scolastico 2023-2024. Si effettua l'iscrizione online tramite il portale del Ministero dell'Istruzione accedendo con le credenziali SPID, cioè quelle del Sistema Pubblico di Identità Digitale, e CIE, cioè la Carta d'Identità Elettronica. Questa procedura va eseguita per tutte le prime classi delle scuole statali primarie e secondarie di primo e secondo grado e per percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dagli istituti professionali e dai centri di formazione professionale accreditati dalle regioni e le scuole paritarie che hanno aderito alla procedura telematica. La domanda resta cartacea per la scuola dell'infanzia. Potrà essere presentata una sola domanda di iscrizione per ciascun studente o alunno. Si possono indicare fino ad altre due preferenze nel caso in cui la scuola scelta avesse un esubero di richieste rispetto ai posti disponibili. Il sistema iscrizioni online avviserà le famiglie in tempo reale a mezzo posta elettronica e tramite l'app Io dell'avvenuta attivazione del servizio e consentirà anche di seguire l'iter della domanda di iscrizione. Grazie per la visione! Grazie per la visione!